Inaugurata questa mattina la nuova sede della Lega di Campagna. A partecipare all'evento il segretario provinciale Mariano Falcone, il responsabile organizzativo Domenico Di Giorgio e il deputato Gianluca Cantalamessa. Un'occasione per spiegare anche le ragioni del rinvio del raduno leghista a Campagna, previsto inizialmente per il 29 e il 30 settembre e poi rimandato a data da destinarsi. Innanzitutto inauguriamo la nuova sezione perché noi già avevamo una sezione, però dopo il 4 marzo è cresciuto l'entusiasmo nel paese, si sono avvicinati tanti tanti amici, tanti simpatizzanti, quindi abbiamo deciso di ampliare anche la sezione, abbiamo preso una sezione un pochino più grande in modo tale da ospitarci tutti. Invece per quanto riguarda il raduno è stata una richiesta precisa che è arrivata dal nostro Matteo Salvini, il quale ci teneva ad essere presenti il 29 e 30, però per altri impegni istituzionali non poteva garantire la sua presenza e allora ci ha chiesto un rinvio di qualche giorno, però ora abbiamo la certezza che Matteo Salvini verrà a Campagna a quella che ora è davvero la Pontita del Sud. Lo abbiamo dimostrato alle scorse elezioni politiche con i risultati soddisfacenti che abbiamo avuto in provincia di Salerno, lo stiamo dimostrando con le attività che stiamo svolgendo sul territorio, sempre vicine a quelle che sono le esigenze e i problemi del territorio. Oggi inauguriamo la sede di Campagna Presidio Politico della Lega sul Territorio, Presidio per i cittadini, Presidio per difendere gli italiani. Inauguriamo la sede oggi a qualche settimana dal raduno che faremo a Campagna dove discuteremo di immigrazione, sicurezza, infrastrutture, lavoro, territorio, con la presenza di Matteo Salvini, il quale darà la sua presenza alla provincia di Salerno e a Campagna per dimostrare vicinanza ai territori, a quelli che sono i problemi delle persone. Onorevole, un momento importante per il territorio anche in vista di un raduno che è stato già definito la Pontita del Sud? Sì, io non condivido la definizione perché per chi ritiene che la politica sia una cosa seria, e la simbologia è una cosa importante. Noi abbiamo una tradizione da conservare, un orgoglio meridionale che intendiamo portare avanti e quindi sicuramente sarà una manifestazione che intende riportare la centralità della Campagna, della provincia di Salerno e tornare a parlare di politica spicciola, diciamo così, quindi di cose che sono state dimenticate da tutti. Intendiamo parlare di quello che è la famiglia tradizionale, del concetto del crucifisso nelle famiglie, nelle classi dei nostri figli, la difesa della filiera agroalimentare del Salernitano, parlare di infrastrutture, di trasporti, quindi immaginare un futuro diverso per le nostre terre tracciando quelle che sono la roadmap della politica della Lega in Campagna. Ho chiesto già anche ad altre esponenti della Lega, come mai tante persone si stanno avvicinando anche al sud, alla Lega. Ma perché la Lega nasce per difendere i territori, abbiamo la perfetta consapevolezza, io parlo per me, che il mio stipendio mi viene pagato da tutti i cittadini, mi viene pagato da tante persone che aspettano giustamente alla politica delle risposte e perché forse tutto sommato le famiglie meridionali si sono stancate di vedere che negli ultimi 15 anni 920.000 ragazzi sono dovuti andare via non per scelta ma perché non avevano altre possibilità di futuro nelle nostre terre.